Ben trovati da Andrea Lazzara con le previsioni del tempo di Arpal, un promotore di alta pressione conferma condizioni di stabilità sulla Liguria. A fine settimana l'insegna della nuvolosità variabile. Il dettaglio, oggi mercoledì 23 marzo, sereno su tutta la regione, 20 settentrionali fino a moderati sul centro ponente, deboli e levante, mare mosso sui capi esposti di ponente, poco mosso altrove, temperature massime in aumento lungo la costa tra 17 e 22 gradi, nelle zone interne tra 16 e 21 gradi. Domani, giovedì 24 marzo, ancora cielo sereno su tutta la regione, passaggi di nubi alte o velature dal pomeriggio sui settori di ponente, venti deboli settentrionali al mattino, meridionali dal pomeriggio, locali brezze, mare poco mosso, localmente mosso sui capi esposti di ponente al mattino, temperature minime stazionare un lieve calo lungo la costa tra 8 e 13 gradi nelle zone interne tra 0 e 2 gradi, massime in aumento lungo la costa tra 17 e 22 gradi nelle zone interne tra 17 e 21 gradi. Dopodomani, venerdì 25 marzo, soleggiato con passaggi di nubi alte o velature anche compatte nella seconda parte della giornata, venti deboli meridionali o di direzione variabile, locali brezze, mare poco mosso, localmente mosso a ponente in serata, temperatura in calo sia nei valori minimi che in quelli massimi, le minime lungo la costa tra 7 e 10 gradi nelle zone interne tra 0 e 2 gradi, le massime sulla costa tra 17 e 20 gradi nelle zone interne tra 16 e 19 gradi. E' tutto, seguite la giornata su arpal.liguria.it, sulla pagina facebook di Arpal, sul profilo instagram dell'agenzia e ricordate di scaricare l'app Meteo 3R disponibile su Google Play e Apple Store. A risentirci!